Preghiamo e meditiamo il nostro credo alla professione di fede che riconosce Gesù Cristo figlio di Dio ecco la meditazione del credo come ce la propongono gli apostoli Pietro e Paolo credo in Gesù Cristo Gesù questo nome che l'angelo ha annunciato questo nome che Giuseppe ha dato al figlio di Maria per riconoscerlo come dentro la discendenza di Davide Gesù il nome invocato dal ladrone in croce per chiedere misericordia Gesù il nome che Agostino cercava come il nome affettuoso per riconoscere il Signore Gesù l'uomo figlio di Maria di Nazareth Gesù colui che è stato crocifisso proprio con questa denuncia Gesù di Nazareth re dei giudei questo è il motivo della sua condanna credo in Gesù questa parola che possiamo pregare tante volte come la preghiera del cuore suggerisce signori Gesù figlio di Dio abbi pietà di me peccatore impariamo a pregare con questo nome di un uomo il figlio di Maria di Nazareth figlio di Dio il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen questa amicizia continui in ogni giorno perché noi possiamo consegnare tutta la nostra giornata a Dio ti adoro mio Dio ti amo con tutto il cuore ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano conservato in questo giorno perdonami il male che oggi ho commesso se qualche bene ho compiuto accettalo custodiscimi nel riposo liberami dai pericoli la tua grazia sia sempre con me con tutti i miei cari Amen chissà come pregava Gesù il Padre nei giorni di Nazareth entriamo in questo mistero di un uomo che è figlio di Dio facciamo un momento di esame di coscienza per chiederci come quando quante volte mi ricordo di Gesù durante la giornata chiediamo umilmente il perdono e sentiamo la misericordia del Padre Dio Onnipotente abbia misericordia di voi perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna Amen e vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen